Ai giusti è concesso quel che desiderano. Proverbi 10 verso 24. Poiché è un giusto desiderio Dio lo accorderà di sicuro. Non sarebbe un bene per l'individuo stesso né per la società in generale se tale promessa fosse rivolta agli empi. Osserviamo i comandamenti del Signore ed egli terrà in giusta considerazione i nostri desideri. Quando i giusti arrivano a desiderare cose errate Dio non le concede loro ma questi non sono i loro veri desideri sono delle deviazioni o degli errori ed è bene che siano loro negati. I buoni desideri giungeranno dinanzi al Signore ed egli non li rifiuterà. Il Signore ha negato le nostre richieste per un determinato periodo. La promessa che oggi meditiamo ci incoraggi a chiedere di nuovo. Ci ha detto risolutamente di no. Lo ringrazieremo ugualmente perché è sempre stato nostro desiderio che ci negasse ciò che riteneva opportuno negare. Per alcune cose possiamo chiedere con assoluta franchezza. I nostri desideri principali sono finalizzati alla santità, a servizio per somigliare a Cristo ed essere pronti per il cielo. Questi sono desideri spirituali e non naturali, i desideri del giusto e non dell'uomo comune. Dio non lesinerà in queste cose ma ci asseconderà con grande abbondanza. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed Egli ti darà quel che il tuo cuore comanda. Questo giorno, anima mia, chiedi liberamente e con assoluta abbondanza di richieste.